Maria Grazia Cucinotta. L'emozione è tanta. Alvia l'ingrediente perfetto. La 7 L'ingrediente perfetto. Nuova edizione sulla 7 con Maria Grazia Cucinotta conduttrice. Tanta emozione E tutto pronto per la nuova edizione dell'ingrediente perfetto Che Maria Grazia Cucinotta condurrà sulla 7 a partire dalle 10.50 di domenica prossima 12 settembre. Prendendo il posto di Roberta Capua. Padrona di casa delle scorse edizioni. Ora passata in Rai alla guida di estate in diretta E proprio in vista del suo esordio come conduttrice dell'ingrediente perfetto Maria Grazia Cucinotta ha rilasciato un'intervista pubblicata sulle pagine dell'ultimo numero del settimanale di Più TV dichiarando Per me è un vero e proprio debutto. L'emozione è tanta. Ma cercherò di essere semplicemente me stessa. Senza troppe pretese La formula del programma rimarrà uguale alle precedenti edizioni. Ha poi anticipato Maria Grazia Cucinotta pronta a condurre la nuova stagione dell'ingrediente perfetto. Porterò le mie esperienze Per lavoro ho sempre viaggiato tanto. Perciò metterò al servizio del programma le mie esperienze. Anche culinarie Fatte all'estero, ha dichiarato inoltre Maria Grazia Cucinotta nell'intervista sull'ingrediente perfetto Non nascondendo poi di non avere molto tempo per cucinare anche se le piacerebbe poterlo fare più spesso L'ingrediente perfetto andrà in onda per tutta la stagione tv Nei prossimi mesi passerò quindi molto tempo a Roma. Città nella quale vivo e in cui realizziamo il programma Ha affermato successivamente Svelando In ogni puntata proporremo delle ricette che avranno come base un «ingrediente perfetto» di cui racconteremo tutto Maria Grazia Cucinotta vita privata. La rivelazione sul marito Giulio? Ecco qual è il nostro «ingrediente perfetto» Nell'intervista Maria Grazia Cucinotta, oltre a lanciare l'ingrediente perfetto, ha parlato del rapporto con suo marito L'imprenditore Giulio Violati Il nostro «ingrediente perfetto» è esserci visti sempre poco. Perché io sono sempre stata in giro per lavoro Questo ci ha aiutati a mantenere vivo il rapporto Ha spiegato. Mentre sulla figlia Giulia ha rivelato Studia economia e commercio. Sono felice che non voglia fare l'attrice perché è un lavoro difficilissimo